Oggi missione all'Aquila del leader dell'Udc. Dico a Berlusconi si concentri sui problemi del paese. Torni all'Aquila, lo ha fatto all'inizio spesso, poi da un po' non torna più. Veda come questa città è bloccata nella sua ricostruzione e pensi che queste sono le emergenze d'Italia, non il processo breve.